La professoressa Mantini, un convegno per ricordare Margherita d'Astria nell'anno delle celebrazioni del quinto centenario della nascita e nei giorni in cui lei entrò proprio nella città dell'Aquila. Il 16 dicembre, cioè domani, Margherita d'Astria entrò all'Aquila e cominciò il suo periodo di governo grazie proprio all'attribuzione di questo incarico da parte del re di Spagna, Filippo II, suo fratello. Certo per l'Aquila fu un momento di grande gioia perché veniva da un periodo pesante del governo spagnolo e forse aspettava proprio un principe, in questo caso un principe da un punto di vista politico, di ruolo più che di eredità di titolo, che portasse il prestigio in una città che aveva un po' patito questo. Certo Margherita arrivò all'Aquila con tutta la sua grande corte proveniente per l'appunto da Bruxelles, una corte fatta e composta da tanti personaggi illustri, musicisti, intellettuali, artisti, di cui poi rimase tradizione anche nella città. Una corte che portò in città e portò fuori dalla città dell'Aquila il suo rapporto con l'Europa. Quindi l'Aquila divenne, e questo è anche per questo il titolo che è stato scelto, è questo titolo di Margherita d'Austria nelle reti d'Europa, tra confini e modernità. Siamo molto contenti del fatto che sono intervenuti tanti studiosi stranieri, proprio dal Belgio, dai Paesi Bassi, dalla Francia e dalla Spagna, tra l'altro anche coraggiosi perché hanno sfidato un po' il tempo, questi periodi che sono anche un po' di riprese influenzali. Invece sono venuti quasi tutti e sono molto contenti, molto contenti della città e anche di questo soprattutto incontro scientifico che segna un po' un punto importante. Parlavo ieri proprio con un professore di Lovagno che diceva appunto che Margherita d'Austria è un personaggio che nei luoghi dove ha governato, cioè il Belgio, Bruxelles, le Fiandre, è un luogo dove non è per niente celebrata. Ovviamente questo è legato a fattori storici ma è rimasto molto colpito dall'entusiasmo, dalla partecipazione non solo di un pubblico addetto ai lavori ma anche della comunità dell'Aquila a questo tema. Margherita può rappresentare proprio la creazione di una rete di studi europei e tutti sono molto sensibili all'idea che questo possa avvenire con l'università, quindi anche con il comune oggi si dichiarava questo interesse e anche perché c'è una professoressa Catherine Lichtert che sta proprio organizzando una mostra su Margherita d'Austria internazionale nel 2024 e noi speriamo di partecipare ovviamente. Ecco una figura moderna quella di Margherita d'Austria non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista proprio politico-amministrativo fu una donna dalle grandi capacità politiche-amministrative. Sì, diciamo che Margherita d'Austria riuscì con un regolamento con cui costruì proprio lo Stato farnesiano in Abruzzo a riunire quelli che erano i feudi farnesiani in una struttura di Stato, poi di uno Stato nello Stato, cioè il Regno di Napoli e portò anche quella che era stata la sua esperienza di governo nelle Fiandre organizzando quindi delle forme di governo in un documento scritto che riformulava con delle riforme molto moderne la pubblica amministrazione in vista quindi, se pensiamo che siamo nella seconda metà del Cinquecento di compiti definiti, buon governo, lotta alla corruzione, salvaguardia dei diritti delle società con un'attenzione particolare che fu rivolta anche a quello che oggi chiameremo il welfare cioè delle forme di assistenza e anche di beneficio che derivò anche da un sistema finanziario che lei introdusse per cui dei monti di pegni riuscirono a produrre talmente tanto interesse che, e questi sono studi in corso che due secoli dopo la sua morte ancora riuscivano a coprire la beneficenza ai poveri perché avevano reso interesse quindi una donna di molta modernità ma soprattutto capace di trasformare quelli che erano stati anche un destino hanno subito quello di essere pedina nelle vicende politiche matrimoniali volute dal Papa e dall'Imperatore in una risorsa, una risorsa che oggi conferma in questo convegno a distanza di vent'anni dall'altro fatto a Parma e Piacenza che io stessa organizzai con l'Università di Milano, non ero ancora all'Aquila e che aveva anche degli storici e degli studiosi che oggi ci sono quindi è come un circolo che si rincontra ma non per chiudersi ma per andare avanti e ci sono backyardi Grazie a tutti.